... ... ... ... ... ... ... Il protagonista della Serie 4 di Tata dei 400 allievi, poi toccheranno gli allievi, dove avremo il finalista dei compiutati d'ora, Caccaio e Ciccola. Il protagonista della Serie 4 di Tata dei 400 allievi, poi toccheranno gli allievi, dove avremo il finalista dei compiutati d'ora, Caccaio e Ciccola. Il protagonista della Serie 4 di Tata dei 400 allievi, poi toccheranno gli allievi, dove avremo il finalista dei compiutati d'ora, Caccaio e Ciccola.